Quali sono i metodi per riequilibrare i chakra? I metodi sono vari, sono vari anche perché per ognuno c'è un rimedio. Diciamo che, adesso senza che sto a ripetere per ogni chakra quale può essere il rimedio, sicuramente il contatto con la natura favorisce il riequilibrio dei chakra, perché comunque la natura contiene tutti i colori di cui abbiamo parlato e sicuramente sviluppare stati meditativi, di rilassamento, può permettere quindi una facilitazione, uno sblocco del sesto e del settimo chakra. Si può usare anche la musica perché la musica è un ottimo veicolo per entrare in risonanza o sbloccare un chakra, quindi si può andare da una musica sinfonica una musica invece ritmata, la musica sinfonica per esempio può essere molto adatta per aiutare il quarto chakra, una musica tribale invece può essere importante per il primo, una musica invece dolce può essere anche per il secondo, quindi il piacere, la sensualità, oppure si può lavorare anche con i colori, quindi proprio la cromoterapia, anche indossare colori che possano richiamare i chakra può essere importante perché il colore anche se indossato in un abito richiama quella frequenza, quindi ce la va a riequilibrare. Possiamo usare anche degli oli essenziali, quindi ci sono oli essenziali come per esempio rosmarino, alla rosa, ognuno dei quali va a lavorare su un preciso chakra, si può usare la cristalloterapia, insomma diciamo veramente un po' di tutto perché ogni cosa può essere importante come spunto per aiutare nell'equilibrio dei chakra. Grazie mille per il suo prezioso intervento, ci troviamo alla sua inaugurazione, l'associazione culturale il sentiero dell'anima, il 29 settembre. Arrivederci. Ci vediamo, grazie.